La fase di accumulo che starebbe attraversando il prezzo di Bitcoin, iniziata più o meno il 10 di maggio, probabilmente sta per concludersi. Questa fase, come vi dicevo, è iniziata più o meno qua, quindi dopo il calo del 12-13 maggio, ad una quota di circa 49.000 dollari. Successivamente c'è stato un altro calo che ha portato il prezzo addirittura sotto i 30.000 dollari e poi una fase di lateralizzazione con continua scellazione tra 30.000 e 40.000 dollari che potrebbe essersi conclusa ieri. Infatti ci sono sia segnali che ci inducono a credere che quella delle settimane scorse sia stata a tutti gli effetti una fase di accumulo, sia segnali che ci dicono che probabilmente a partire da oggi sta cambiando qualche cosa. Inoltre questo trend assomiglia a quello dello schema di accumulo del metodo Wyckoff, cioè questo. In poche parole, in questo momento potremmo essere qua, cioè in questa fase in cui il prezzo rinizia a tornare sui livelli precedenti. Quindi più o meno, questo significa che il prezzo potrebbe tornare relativamente a breve, a torno a quota circa 38.000 dollari, per poi superare i 40.000 dollari e riprendere il suo percorso verso i 45.000 dollari. Sia chiaro è che questa è solamente un'ipotesi tra le tante che si possono fare, ma in questo momento, se non altro, questa ipotesi sembra essere plausibile. Se questa ipotesi dovesse rivelarsi corretta, allora nella prossima settimana, 10 giorni, massimo 2 settimane, noi potremmo rivedere il prezzo di bitcoin tornato attorno ai 45.000 dollari. Ma perché si ipotizza che questa sia stata una fase di accumulo? Perché ci sono dei segnali che indicano che durante questa fase alcuni hanno comprato bitcoin anche in grandi quantità proprio per metterseli su un loro wallet privato per conservarli sul lungo periodo. Cioè che cosa potrebbe essere capitato in questo periodo? Potrebbe essere capitato che molte persone in preda al panico, quindi credendo che il prezzo potesse scendere ancora, hanno venduto, anzi hanno svenduto bitcoin a prezzi bassi e qualcun altro, invece, potrebbe averne approfittato per comprare bitcoin a prezzi bassi perché credeva che il prezzo sarebbe poi cresciuto in seguito. Ecco perché può essere definita una fase di accumulo perché qualcuno ha approfittato dei prezzi relativamente bassi per poter accumulare il maggior numero possibile di bitcoin. Ripeto, questa è solamente un'ipotesi, magari hanno ragione coloro che in preda al panico hanno venduto a prezzi più bassi perché ritengono che i prezzi possano scendere ulteriormente. Se sarà così, coloro che invece hanno accumulato in questo periodo in qualche modo avranno avuto torto. Questa, ad esempio, è la curva con la banda di oscillazione del prezzo di bitcoin da dicembre fino ad oggi e come vedete questa fase con sali e scendi Quindi, in teoria, potrebbe anche far ripartire il prezzo di bitcoin verso questa linea marrone che è il mio stock to flow ricalcolato. Questa linea in questo momento dice da come indicazione di prezzo 47.000 dollari e entro fine mese, quindi entro fine luglio, da come indicazione che il prezzo potrebbe addirittura superare nuovamente i 50.000 dollari. Invece, la linea azzurra è lo stock to flow originale di plan B. La cosa interessante è che non dovremmo aspettare molto per capire se realmente si sarà trattata di una fase di accumulo oppure no. Perché nel caso in cui nella prossima settimana, 10 giorni, massimo 15 giorni, il prezzo di bitcoin dovesse tornare verso quota 45.000 o forse anche qualcosa in più, ecco che avremmo la conferma che si è trattata di una fase di accumulo durata per un po' meno di due mesi. E ricordatevi che la mia linea marrone dello stock to flow punta comunque ai 100.000 dollari, però non a fine agosto come quella di plan B, ma a fine dicembre. Ovviamente vi terro aggiornati se ci saranno delle novità. Nel frattempo, per seguire queste oscillazioni praticamente in diretta, vi consiglio di iscrivervi al mio gruppo Facebook, BicconItalia, aperto e senza scam, di cui metto il link in descrizione. Un saluto, ciao!